Nicola Olivieri, Andrea Roncao, Riccardo Ferri, Emanuela Tittò, Stefano Chiodarone, Sara Ricci, Katia Solleza, Sonia Rossi, Enzo Paci, Yuri Chechi, Andrew Howe, Carima, Stefano Taccone, col jackpot bronzo da 1500 euro! Questo e molto altro al bingo in famiglia, tutti i giorni alle 14.30 dal lunedì al venerdì sull'Automatica TV, vi aspetto! Come sono andata? Brava, Sere! Grazie, grazie. Grazie.